Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, la cuboi.post, madonna quante robe c'è, adesso mi spiego tutto ho fatto un sacco di cose, una ciucciata da panico mi sono fatto, vabbè, e comunque vi spiego, buttami via la flint perché me ne faccio un cazzo di niente della flint, la posso fare quando voglio e per il momento non mi interessa, a meno che non trovi un utilizzo veramente spasmodico per usarla, sarò da parte. Allora mettiamo un po' di roba via, adesso vi spiego assolutamente cosa ho fatto, vi ricordate che stavo facendo appunto il corpo, adesso guardate quanta roba c'è, stavo facendo il ferro, il ferro lo sono riuscito a fare e ho fatto la singolarità del ferro, quindi adesso noi abbiamo un ferro gratis senza nessun problema, poi ho fatto, ho switchato le meshe e le ho fatte diventare ferro dalla flint, mettendo tre da una parte e tre dall'altra e in mezzo una mesh di flint mi è diventata la mesh di iron, con la mesh di iron, con la grave l'ho shiftato con sta roba che avete visto qua, più questa qua e questa qua. Questa l'ho ottenuta usando questo, se no l'apatite non sapevo come usarla, allora ho messo due pezzi di apatite, uno di Niter che è questo cazzino, questi piselli qua a volanti e un po' di sabbia e mi fa otto, è un estremamente potente fertilizzante in pratica, allora sì, un fertilizzante estremamente potente. E se no non sapevo come usare sta cosa, e quindi è andato tutto bene, così ho fatto, scusate, e mettiamo via sta roba che non serve. Poi un'altra cosa, visto che facevo tanti tanti di questi lapiscazoli, ho detto ma ci facciamo anche la singolarità, e l'ho messa qua e siamo a posto, e niente, ho fatto anche quello, basta, dopo stavo aspettando di fare i diamanti, sì, ma non ci sono ancora arrivato a capo purtroppo, e niente, quindi è andata così. Intanto sto facendo sta roba qua, che è di una noia mortale, però una volta che la facciamo non dovremmo avere più problemi, perché faccio le singolarità, e quindi siamo a posto. Di questi sono i led, dovrei riuscire a fare la singolarità, vediamo un po', sì, c'è, e quindi posso fare 660, cioè ne abbiamo troppi, 612, 240, non le vado neanche a dividere. Sta cosa uguale, uranite, 612, 18, 180, non li vado neanche a dividere. Sono abbastanza contento, talmente per i diamanti, che adesso li andrò a fare, perché non posso fare diverso, mi servono, e quindi per passare alla mesh successiva, perché è quello che io sto puntando a fare la mesh, oddio, ho fatto un po' di macelli. Devo entrare qua, porca vacca, e vabbè, amen, è ormai andata. E niente, adesso mi metto a cuocinare, come vedete ho fatto un po' di danni, un po' di macelli, però insomma, niente di che, cuocino questa roba, e ci vediamo frappè, perché così andiamo avanti, con le creste, e sì, è ora, direte, no, insomma sì, e vabbè, a dopo. Ecco qua li sto facendo, come vedete è molto rapida la cosa, non è così invasia, solo che è un po' una palla, perché effettivamente il drop rate è abbastanza basso, perché quelle di iron sono così, però una volta fatte, passiamo a quella dopo, e tanti saluti. Mamma mia che ciucciata, ciò che è ciuccione sto coso qui, madonna, si è ciucciato l'impossibile. Allora, vediamo un po' di buttar via la flitta, perché non me ne faccio un cazzo, cioè andiamo già troppa, ormai la flitta esce da tutte le parti, da qualsiasi cosa faccia mi esce la flitta, porca miseria. Ed ecco qua, diamanto 30, non so se basta, io non mi ricordo assolutamente, perché devo fare, come al solito, ho una memoria che fa paura. E vabbè, adesso riprendiamoci, guardiamo, perché io non mi ricordo, lo vediamo qua, 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 quando? Ce ne mancano 56, quindi mi ci vuole un'altra siftata da panico, un'altra ciucciatona da panico, se no anche due. E vabbè, ci vediamo a te. In pratica con una stack di compressed gravel, mi ha fatto solo 15 diamanti. E' proprio una cosa indecenti, adesso andiamo ad aumentare il doppel rate, speriamo bene, vediamo quanto ne abbiamo. E' ancora meno adesso, perché con due fila intere di stack normali, mi ha fatto totale 23 diamanti. E' una cosa indecento proprio. In pratica con più di 5000 pezzi di gravel, ho fatto quasi una stack di diamanti. Diamanti? Beh, è una cosa buona, insomma. Sembra un popcorn, schiopetta una destra e manica. Beh, facciamo l'ultima ciucciata e siamo a posto. Ciao, voi, guardate come ciuccia. Questa è una ciucciata con i succhi, è proprio una roba esagerata, proprio di una delicatesse, senza fine. Allora, buttiamo via la nostra flint e speriamo bene di avere abbastanza diamanto. Madonna quanti ne ho di flint, ne ho troppa. Non riescono mai a fare un po' che la sfinta sia veramente utile. 27 è più un po' che li ho messi, prima che erano 15, 13. Adesso sicuramente che per 2, 3 non bastano. E dove cazzo è finito? Cioè, io ammazzo qualcuno, ho deciso. Ma, secondo me non basterà anche stavolta. Però adesso ci guardiamo. Magari abbiamo un po' di fortuna. Vediamo un po'. Ci c'è torna. Adesso qui c'è rimasto qualcosa. Cosina. Perfetto. Quanti sono 13? Dovrebbero bastare. Mamma mia. Scusate un attico che qui siamo invasi dalla flint. Ok. Dovremmo aver fatto la singolarità. Del diamanto. Oddio, si l'ho dato. Ce l'abbiamo faccionata. Abbiamo la singolarità. Del diamanto. Che cosa è gradevole. Eccoci qua. Mettiti qua. Mi raccomando, fanno tanti. Gli ho già riempiti tutti. Bisogna che ne faccia degli altri. Salve signor diamanto. Lei finalmente posso upgradeare. Posso fare una cosa da panico. Quindi adesso che abbiamo fatto anche questo. Devo prendere a shoot amount. Tutta questa roba. La trasformizzo. Questi qua. La trasformizzo. Vediamo cosa fare. Perché insomma ci mettiamo tutta la vita. Adesso queste le cuocio. Perché tanto cosa vuoi che faccia. Le cuocino. Faccio le singolarità. Perché dovrebbero essere già pronte. Adesso andiamo a prendere insieme. Che dovrebbero essere cotte. Allora fatemi vedere se c'è altro da prendere. Prendiamo queste. Vediamo un po'. Queste le voglio trasformare. Trasformo tutto. Tutto quello che è possibile trasformare. Lo trasformo. Vediamo un po'. Perché se no qua non ci stiamo più. Oh porca troia. Adesso come cazzo. Mi toccherà far così. Ok. Facciamo così. Poi così. E poi così. Vai. Meno abbiamo trasformato. Poi. Carbono. Ah per poco. Andiamo. Non ne ho più. Sì che li ho. Perfetto. Ah così mi sono liberato. Perché cazzo. Anzi questi mi serviranno. Ne avevo finiti. Questo mettiamo via. Mettiamo via. Mettiamo qua. Mettiamo qua. Mettiamolo via. Non c'è altro. Questa roba. Si penso che sia a posto. Quindi andiamo a... Dove sto cucinando il tutto. Aspetta un attimo. Era qua vero? Stiamo facendo una figura di merda vero? Probabilmente sì. Dovevo fare la figura di merda. Se no non ero contento. Ecco qua. A posto. Andiamo a prendere tutto quello che c'è da prendere. Un attimo qua. No il ferro. Adesso va. Ti ricorda dove cazzo? L'ho messo sto coso. Ok. Vai qua. Così siamo a posto. Era qua. Sì. Perfetto. Gli facciamo. O se. Così. Possiamo fare finalmente la singolarità anche di sta roba qua. Ci sono le stream reactor qua? Adesso ci guardo eh. Ok. Quindi mettiamo qua. 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 Quando? Eccoci qui. Eccoci là. E adesso andiamo a fare le singolarità. Oddio. Vabbè. Cioè. Quando è destino è destino eh. Ci facciamo un cazzo. Allora. Andiamo a togliere tutto. Olè. A posto. Adesso facciamo la singolarità anche di questo. E siamo a cavallo. Perfettico. Una è andata. E l'altra è andata. Vai due quest fatte. Come scendo il contento. Adesso cosa faccio eh. Adesso. Mi applauso adesso. Devo fare. Togliere sta roba più di tutto. Prendere tutta la mia roba che ho messo in giro. E faccio queste altre due che sono giusto qua. E abbiamo riempito la stanza. Poi vedrò come fare. Per fare la grassa. Che mi interessa metterci la grassa. Come la. Che roba strusa. Sì. Non c'è il seed della grassa. Ecco. Già mi piace di più. Nell'aeron. Benissimo. Se riusciamo a trovarla. Siamo a cavallo. Poi prendiamo. self-watering can. Vediamo un po'. Non lo vedo. Non c'è. Peccato. Così facciamo subito una roba da panico. Vabbè. Pazienza. Vado a fare quello che vedete. Ci vediamo frappé. Ok. Ho fatto. Mettiamo qua. Adesso. Quello blu qua. Lead. E qui l'uranio. Perfetto. Oddio. Certo. Ce l'abbiamo faccianata. Sono contento. Abbiamo fatto un sacco di cosine. Possiamo certo lamentarci. Ok. E alla fine. Questo è un'altra cosa. Presumo. Madonna. Ci ha elaborato. Questo è quello che abbiamo fatto. Cioè. Loro lo fa. Esagerato. Però. Alla fine. È minimale. Quello che ho fatto. Lo usiamo una volta. Poi insomma. Non è che lo usiamo tutti i giorni. Nel senso. In continuazione. Quindi per me. È più che sufficiente. Avere fatto quello che ho fatto. E quindi. Cosa c'è? Ah. C'è da fare. Che questo. È. Questo è da fare. L'altro macchinario. Con la belt. La conveyor belt. Questo è la cosa. È la belt. Sì infatti. Oddio. Scusate. Sono uscite. Adesso è da fare anche questo. Diciamo faremo anche questo. Che ci darà tutto questo. Mi devo informare. Perché questo è un altro macchinario. Che bello. Dopo. Beh. Comunque dici che sono opzionali. Adesso le facciamo. Perché le dobbiamo fare. Però. Insomma. Allora. Prima di tutto dobbiamo ottenere il seme. Che si ottiene. Siftando la sand. Waterlog sieve. Cos'è il waterlog? Non è il sieve normale. Credo. Come l'impressione che sia una cosa diversa. Fatemi vedere. È perché vedete che c'è altra roba. Ma no. Mi devo informare. Ci vediamo dopo. Ok. È semplice. Bisogna sieve. Sivarlo dentro una pozza di acqua. Quindi non c'è problema. Andiamo pure a fare. Il nostro che. Adesso lo facciamo. Il nostro sieve. Non ricordo più come si faccia. Insomma. Sì. Mi sembra così. Però se mi naso. Me ne basta uno. E se facessi il compressa. E me ne sbatto i marroni. Allora. Vediamo un po'. Allora. C'è l'ho qua. C'è l'ho qua. Lo prendo. E tanti saluti. Insomma. Sì. Ho fatto. Un po' di cose. Perché non avevo finito le quest. Queste qua. Devevo guardarle. Ma dovevo fare cose che avevo già fatto. E non me le avevo segnate. E ho la pazienza. Comunque sì. Andiamo avanti. Ed è qua. Questo qua. Se riesco a prenderlo. Grazie. Vediamo un po'. Come lo ottengo. Posso usare anche quella di. Questa. Che mi dà un drop rate molto più alto di diamond. Va bene. Facciamolo subito. Visto che ce le ho. Andiamo di flin. Ma lasciamolo lì. Tanto insomma non ci dà fastidio. Vediamo un po'. Devo fare il ferro che ce l'ho là. Le mesh. Che non ho. Porca macchina. Ma perché lo devo uccidere per forza? Mi dà fastidio. Devo l'uccidere. Dove è andato a finire? Salve signor Enderman. Lei è molto bello. Salve. Ma proprio bello bello. Gli dice ma nessuno. Gli dice la mamma. Aspetta un attico. Che cavolo. Ecco qua. Mi ha dato l'ender pair. Si è stato proprio un barbone. Sei insomma. Vabbè. Stavo dicendo che mi serve un cavolo di stringa. Che non ho. A meno che non l'ho messa da qualche parte. Le dovrei aver finito tutte. Allora. Mi tocca prendere per forza queste qua. Tanto comunque devo cambiarle. Non è un problema. Le trasformo. E poi. Quella là la porto di fuori un attico. Nella pozza. E sono a postolo. Ecco qua. Vediamo se sono 24. Non le lasciate. 25. Cioè non le lasciate in giro nessuna. 25. Le andiamo a trasformare. Che tanto dobbiamo trasformarle. E andiamo di fuori. Con questo qua. Allora. Vediamo se c'è. Come è questo. Non è questo. Salve. Eccoci qua. Trasformiamole. E tanti saluti a tutti. Allora. Erano così. 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 E così. Sì. Oh. Adesso mi piace. Mi mettiamo a posto. Per molti dio. Che scena qua. Un cazzo di casino. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo un attimo fuori. E andiamo a. Sì. Però ovviamente devo prendere anche la tè. La sabbia. Ed è compressed anche. Quindi. Ne ho presi nove. Ovviamente no. Perché non so contare. Eccoci qua. Send. Vai. Perfetto. Andiamo pur qua. E vedere come fare. Ok. Eh. Adesso. Dravia. Ok. Perfetto. Ci siamo a posto. Questo deve mettereci un verme. Se no. È un casino. Qui lo rompiamo. Se no. È un altro casino. Eh. Massimo. Non è giusto. Eh. Lei mi sta attaccando. Che non dovrebbe. Se muori un attimo. Ti toglie le coglioni. Siamo tutti contenti. Ah vabbè. Mi lasciate la roba. Cioè. Insomma. Che sono io per di qualcosa. Eccoci qua. Ok. Andiamo qua. Che possiamo shiftare. Senza problemi. Mettiamoci il nostro pezzo qua. Mettiamoci la nostra rete qua. E facciamo così. Vediamo se esce. Qualcosa è uscito. Non so cosa. Perfetto. Penso sia uscito. Vedete c'è un po' di roba. Sia grass. Cosa fa la sia grass? Cosa vuol dire questo? Il bossa ipot mi dà questo. Vabbè. Mi fa tanto piacere. Insomma. Sì. Mi dà il mio carburante. Mi ha dato sia questa. Che questa cosa fa? Sia pickage. Beh. È una cosa da panico proprio. Ma porca vacca. E' una cosa buona. E li metterai da qua. Adesso mi li metto a shiftage di queste. Ci vediamo fra poco. Ed eccoci qua. Gli ho fatti. Adesso posso prendermela. Ho tirato fuori un bel po' di roba. Effettivamente. Vediamo un po' cos'è sta roba. Con l'acqua di mare. Si fa. E' questo. Horn coral block. E che cazzo serve? Smisciandola mi dà l'horn coral. E che cazzo serve? Ma pensa a te per darmi il giallo. Mamma mia che astrusa. Che cosa che mi hai detto. Ma insomma è proprio strano. Vabbè. Comunque sia. E mi hai dato che questo. Presumo sia bianco. Questo punto. Ah sì. Poi questa è roba da mangiare. Ok. E questa. Ma da me ha detto. Perché sono tutti colori. Detta così proprio. In modo astruso. Tube coloral block. E mi dai. Il colorante. Sì. Per me sono solo colori. Va benissimo. Sono contento. Ho ottenuto quello che volevo. Questo si può addirittura. Anche preparare qualcosa di buono da mangiare. Bello potento anche. Però se io. Ma no. Questo non era questo. Voglio capire. Che tituramento di coglia. Cosa fa. E. Vabbè. Io. La quest l'ho fatta. Ok. Devo fare questa. Devo farlo nel potting. Va bene. Io ci metto. L'acqua. Del potting. Ci va l'acqua. Un bucket di acqua. Come base. E sopra ci va quella. Non i semi. Scusate. Se non mi so che per me è una roba nuova. Devo guardarci. E non mi dici un cazzo però. Vabbè. Mi informo. Mi dico. Perché se no così facciamo un attimo. A dopo. Ok. Mi sono informato. È facilissimo. Solo che evidentemente. Non l'avevo capito. Il mio secchio dove è finito? Avevo un secchio in mano. È sparito il secchio? Mi è finito qua dentro. Avevo un secchio. Dopo il secchio ho deciso di sparire. Tanti saluti. Vabbè. Me ne faccio un altro. Qui il problema. Adesso mettiamo. Salve. Mentre. Adesso la quest. Ci riferiremoci. Allora. Il secchio unattico. Siamo a postolo. Andiamo un po'. Tac. Tac. E bucket. Questo è il vero e proprio bucket. Dammi un attimo. Ah. Non me lo dai più? L'acqua? Sì. È un po' fettentone. Mi hai ucciso tutto quanto. Mi hai ucciso. Vabbè. Comunque sia. Il boi sai potter. Ah. Me l'hai dato adesso. Sì. Sì. D'acqua. Perfetto. Allora. Mettiamo il boi sai potter. Dov'è? Perché mi servirà poi. Andiamo un attimo. Vi faccio vedere. Dove posso farlo. posto a un po' di mattoni qualcosa. Uso questi. Così vi faccio vedere. È facile. Facilo. Solo che lì. Non l'avete mai visto. Avevo bisogno di un attico. Allora. Andiamo qua. È un posto dove non ci sia casa mia. Possibilmente. Io adesso non mi ricordo. L'ho fatto a casa. Porca miseria. Ci ho scordato proprio. Dovrebbe essere a posto qui. Ecco. Subito dove c'è casa. Porca vacca. Eh vabbè. Allora. Faccio prima. A fare una cosa. Lo faccio in alto. Allora. Facciamo così. Metto l'acqua qua. E faccio. Una cosa così. Per farvi vedere. Poi dopo lo faccio in un altro luogo. Ovviamente. Perfetto. Ci vuole la sabbia. Ovviamente. Mi scordo. Sempre un qualcosa. Ci vuole la sabbia. Cara sabbia ti scrivo. Mi serve un attico? Questo cresce sulla sabbia. Ok. A postolo. Ci fa in cialire. Si fa così. Ok. Saliamo un attico. Cos'è che tutto è da vedersi. Ecco qua. Da per spiegarvi. Per spiegarvi però. Devo scendere. Se no. Così vi spiego. Se non si endo. Allora. mettiamo la nostra bella sabbia qua. Poi mettiamo il seme. che però non me lo fa mettere. Perché ci vuole l'acqua. Allora. Facciamo. Una cosa. Speriamo di farcela. Così. Poi in teoria. Io lo metto qua. Esatto. Però è cresciuto. Adesso ci vorrebbe il super mega fertilizer. Che ovviamente ho dimenticato. Perché io dimentico sempre qualcosa. E questo crescerà. È una cosa molto semplice. Semplice. Insomma. Non è una cosa estrusamente estrusa. E quindi insomma sì. Ecco qua. Prendiamo uno stack. Siamo a posto. Lo fai così. e dopo ovviamente la farò in casa. Ma per farvela vedere. Ho preferito far così. E siamo a posto. Allora. Rizzalizioniamo. Diamoci questo qua. Dopo tolgo tutto. Non c'è problema. E mettiamo il bomb meal. Che spero funzioni questo. Non lo fa. Ci vuole il bomb meal per forza. Certo che sei un fertilizer super potente. E poi ci vuole solo il bomb meal. Poca miserica. Eh ma sei proprio estruso eh. Eh che cavolo. Vabbè. Ormai è andata così. Non ci vuole fare. Bomb meal. Bomb meal. Eccolo qui. Andiamo su. Corriamo. Corriamo. D'è che ha fatto tardi. Il vento a buio. E quindi risaliamo. Eh ovviamente non ha più matoni. Eh che cavolo. Vabbè. Perfetto. Vediamo se col bomb meal. Adesso cambia qualcosa. Eh nel video che ho visto funzionava eh. Davvero. Non so perché non funzioni. Comunque. Prima o poi crescerà. Questo coso. E uscirà la pianta. Adesso dobbiamo solo aspettare. Ok. Eh me l'ha preso. È cresciuta. Eh col bomb meal. C'è troppo alto. Non so. Cosa ha fatto. Comunque. Ce l'abbiamo fatta. Eh l'abbiamo presa. Oh. Come vedete. Bomb meal cresce. E siamo a posto. Infatti. Mi ricordavo che funzionasse. Eh che cavolo. Eh ho sbagliato. Ho messo l'altra. Vabbè. Comunque adesso ne faccio un po'. Perché serve. Eh. Non riesco. A volte non la prende. O forse deve. Ah perché deve proprio crescere prima. E poi una volta cresciuta. Eh perché da seme si vede che non funziona. Mi viene a pensare così perché non va. Vedete. Spingo. Ma non succede niente. E quindi non so. Vabbè. Comunque ce l'abbiamo fatta. Questa è la cosa più importante. E tanti saluti. Ok. Vedete. Perfetto. E abbiamo preso un bel po'. Allora. Adesso la cresta è fatta. Poi. Dice di fare queste. Sono opzionali. Adesso vediamo come si fanno. Devo bruciare queste. In un campfire. O in una fornace. E va bene. Allora. Bruciamole in una fornace. Adesso uno lo metto nel bersai potter. Ormai l'ho fatto. L'ho fatto. L'ho fatto. Eccoci qua. Mettiamo a postolo. Non so se ci voglia l'acqua. Effettivamente. O il bersai potter. Basti così com'è. Adesso guardiamo. La. La. La sabbia. Ci ho pensato dopo. Non ce l'ho vero la sabbia. Porca bacca. Eh vabbè. È andata così. Ormai cosa ci volete fare. Ecco qua. Vai. Presa. Quindi me da parte. E dovremmo essere a porto. Quindi questo è qua. Le cresce. Se mi serve non devo più penare. E ce l'abbiamo. Vai. Perfetto. Mettiamo il. Questo. Perché questo che va. Ma risposto proprio col cazzo. Proprio. Ci guarderò. Perché non ho capito. Qui dice che col. Borsai potter ci va. Però dice che la base è acqua. Non è terra. Vale. Ci guarderò. Vi dirò. Allora. Intanto andiamo a cucinare sta roba. Che è di qua ovviamente. Perché non piace passeggiare. E andiamo a cucinarlo. Vai. Questo me lo dai. E mi dai una. E lo so che è sprecato. Però che ci devo fare. Va a posto. Perfetto. E anche questa. Questa. È fatta. Adesso dice di fare. Ah. Le sei di queste. Che cazzo. Perciò volevo fare. Capite. La cosa. La. Come si chiama. La farm. Così siamo a posto. Non ci deve più pensare. Vabbè. Adesso di cucina. Mi vado a informare sul Borsai potterci. Vediamo fra poco. Ok. Ci andava. Il secchio pieno d'acqua. Dentro il Borsai potter. Glielo clicchiamo. Col pulsante destro. E poi ci mettiamo. Dentro il. Il seme. C'erano insieme. La foglia. E lui crescerà. Molto semplicemente era così. Adesso prendiamoci i sei. Perfetto. E andiamo a fare. Quello che ci ha chiesto. Tac. Questa qua. È la belt. Che servirà per fare. Grazie a. Questo punto. Questo pezzettino qua. A fare in modo che il motore. Quando giri. Ci porta su questa. Come si chiama? Adesso vi faccio vedere. Qua. Questa qui. La mettiamo qua. Che ce ne va con un altro motore di qua. Così lui ci fa la striscia. La belt. Come si chiama in italiano. La belt. La cinghia trasportatore. Così noi. Non dobbiamo avere problemi. Insomma. Per. Ci buttiamo gli item sopra. E lui. Piano piano. Li trasporta. Verso. La destinazione. In questo caso qua. Ma non vado a farla. Perché. Comunque è opzionale. Infatti dice che. Funziona anche senza. Poi. Cosa ci dobbiamo fare? Dobbiamo fare questi qua. Che si fanno con questi. Allora. Uno qua. L'ho preso. Sì. E poi. L'altro. E' questo. Che si fa così. Che tanto abbiamo tutto. L'andesite all'olio. Non mi ricordo l'ho messa. Mi sembra qua. Ecco. Non lo so. Da qualche parte l'ho messa. Comunque la farò. E non c'è problema. Vi faccio vedere come si fa. Ma è facile. Facilo. Con questi due pezzi. Che abbiamo fatto adesso. Adesso abbiamo la farm. E con l'andesite all'olio. Che è facilissimo fare. Adesso abbiamo anche. L'aeron nugget. Quindi insomma. Lo facciamo in una volata. Abbiamo le farm. Di due queste cose. E quindi. L'altro pezzo. E' sempre la stessa cosa. Quindi. Due pezzi di qua. E' un pezzi di là. Li faccio. Off camera. Tanto sono cose facili. Ci vediamo direttamente. Nel prossimo episodio. Quindi ragazzi. Come sono? Ti ripeto. Lasciate un like e un commento. Se vi piace la serie. Di farvi appunto sapere cosa pensate. E adesso è assoluto. Ci vediamo.